Signori, siamo arrivati al finale di The Forest, la seconda parte, questo è proprio il finale definitivo, è un gioco della Madonna e sono orgoglioso di averlo portato sul mio canale, insieme a questi pazzi maniaci dei miei amici, buona visione Salve, girati Barenzo, ti stavo aspettando Buongiorno, salve, salve, senta lei, mi dica un attimo, questa è tipo l'intervista che ho fatto con Montemagno Cosa ne pensarei dell'articolo 13? E niente Beh io penso sia una sola favorevole, io sì sì Ma cosa? Andiamo, andiamo Ma non c'è nulla C'è un boss là in fondo C'è un boss morto qua Aspetta, vedi quello, fa il giro d'altra parte Ti sbuca davanti, Lora, attento Aspetta, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, aspetta, aspetta, passiamo Però si è incazzato, perché? Non credo ne abbia, non mi ha visto, quindi dobbiamo ancora Mi ha visto, via, via Non ci passa dalla porta, ciccione Non scherzavo Aspetta, tira una molotone Vabbè Che male ti sei fatto, Pietro Occhio, devi tirare le molotone contro questo Eeeh, bravo, non ci passa dalla porta, tirate il molotone Credo che sia morto È morto? Morto, lo Boh, ci faccio un'armatura, ciao ragazzi Come hai fatto a morire? Ah, lei, l'hai usato la motosega? Sì Bravo Ora non riusciamo a passare, perché Non si passa, non si passa Facciamo il giro, facciamo il giro Porco demonio No, da Ah no, sono riuscito a passare, l'ho tolto Qua c'è stato un altro boss morto Altra gente morta Qua c'è, qua è successo qualcosa di strano Ma che ca... Oh Vorrei fare una battuta, ma non posso farla Vabbè, una cosa, è una cosa che c'entra la mia famiglia Come che ci capiamo subito, bro Eh, esatto Roba chimica che non ho mai capito, ma tanto chi se ne frega faccio lo youtuber Ah, Ciccio deve raccontarci una storia Allora ragazzi Devo dirvelo, è vero Sono gay Raga, io sono ricoperto di sangue, come faccio a lavarmi? Raga, te lo giuro, Ciccio Oh, allora, sembrano uguale alle porte che abbiamo aperto durante il giorno Ma è vero, cos'è sta roba qua? Ma non mi fa saltare, raga Si può attivare sto coso? Ecco qua, allora Dove sono io? Bro Ok, ok, bravo Guarda che si può aprire, mi sa, è qua L'ho aperto, sto aprendo Oh Che sto facendo? Spingi io dentro, spingi io C'è mio figlio dentro È morto Dici? No No, è morto Cosa c'è? Ma no, what? Morpheus Non è proprio così È morto mio figlio Perché me ne hanno amazzato il figlio Pezzi di culo Ma no, non ci credo che c'è sto bad ending, The Forest Ma che brutta fine Ma dai, orribile Scusate, ma io ho un bambino in mano o voi non ce l'avete? No No Ce l'ho solo io, bambino Prova a metterlo sul letto? La butto lì? Ma no, sto male Ah, lo ha messo, lo metto sul letto Cavolo, che brutta storia Ma è l'opio che moriva il bambino Non aveva proprio l'opio Gli ha messo il Gundam vicino Ma dai, non ci credo Ah, gli spetti, sto collegando sti cosi Come se potessi salvarlo da un momento all'altro Ah, lo posso salvare forse? Aspetta New sample required Cosa vuol dire? Eh, non è che tipo adesso uno di noi deve entrare? Eh, ho paura Ciccio, vai, vai Ciccio Vai Ciccio Ragazzi Ragazzi Lì si è sacrificato subito Addio ragazzi Perché non posso entrare Ciccio è stato bello conoscerti Puoi avermi ragazzi Non posso entrare però, non so perché Trova un nuovo sacrificio Oh, qui si apre, raga Qui si apre Ok ragazzi, allora proviamo ad andare in giro Magari riusciamo a trovare qualcuno Sei? Madonna che figata C'è un campo da basket, raga È enorme sto posto Si dice che c'è un boss fight Secondo me Eh, ma scusami Non ci dovrebbe essere il boss Non è che compaiono tipo un Super Mario Guarda sotto È di vetro il pavimento Eh, sì, sta assurdo Sarebbe un peccato se qualcuno lo facesse No, niente No, raga Non penso sia un boss fight Cioè, o qua C'è Godzilla qua Cos'è? Eh, guarda qua, Lore Guarda qua, dove sono io Qua c'è una cosa che fanno esplodere Quindi sicuramente c'è il boss C'è una bambina C'è la bambina Ammazziamola Ecco lo sacrificio per mio figlio Che però mi sa che Aspetta, Pietro Mi sa che non Scusami, scusami Non volevo Stacci lontanissimo Tipo Mi sa che Non è proprio una bambina normale Visto che è qui coperta di sangue C'ha la bocca sporca di sangue E ti ha appena guardato in faccia E mi sta guardando malissimo Tesoro, cos'è successo? Quello è il tuo aeroplano Che è caduto Ecco, ho visto? Hai visto? E sei stata tu Si sta scusando Per avermi buttato giù l'aeroplano Ma è stata lei Secondo me, ragazzi Sta bambina c'ha dei problemi C'ha dei problemi La bambina Lagga Ok Io ti consiglio di scappare, Lore Io vorrei scappare Ma il mio personaggio È inchiodato per terra Ragazzi Tutto lo nostro è un gioco A voi Aspetta che ci provi Madonna che botte tira Occhio, occhio Oh porco Non spregate le bombe Porca vacca Balla la breakdance Dovresti portarla verso un punto E io lo faccio saltare Ragazzi, qua c'è cosa è fare sploda Vieni qua Aspetta che provo a colpirla Ti ha shottato Vai via di là Vai via Vai via Vai via Boom L'ho presa Ma perché ce l'ha con Tom Aspetta Aspetta Oddio Raga, mi sta che mi sta targhettando Mi sta targhettando a me Quindi colpite la, fate qualcosa Se non con le molotov Non so proprio come colpirla Vado con l'ascia Tutti insieme Arrasciamola Scherzavo Non lo facciamo mai Brucia bestia de satana Brucia È morta davvero? Hai preso la bambina? L'ha presa ciccio Vai andiamo C'è la ciccio Aia Sei un deficiente Aia porco demonio Bambina morta Schifosa No Infilati nel coso Speriamo di sì Aspetta Ho lasciato una roba per terra Un'altra tessera Live sample Su second part Dove sono io? Vai vai C'è un altro portale No vabbè odio Il porto è di oblivion Sì però è odio questo Ah bastava così? Non promette benissimo Però vabbè Oh oh What? Ma guarda Guardate gli scheletri Che strano Che cosa? Guarda sopra Ci sono delle cose Attaccate al muro Ma dobbiamo scendere No Ma non è che usciamo Ma non penso proprio Ci sarebbe un'uscita Dove puoi arrivare direttamente Al finale C'è una porca Ci siamo ricollegati al laboratorio Speriamo di no Ma vogliamo Ragazzi è un po' di casino qua Pulite voi Ciccio Quante volte avete di non organizzare più quelle feste Dai Ma a volte capita Hai capito? Mi piace a me Dove stiamo andando? Dove c'è un ascensore? Sta scendendo? No secondo me sta Non lo so rega Quanti Cavolo di Eh? La neve Stava salendo Siamo sulla montagna Siamo sulla montagna raga Ma quanto si è C'era questa roba sulla montagna E chi l'aveva mai vista? Beh non ci siamo neanche mai andati Tra le altre cose Beh effettivamente Vai avanti Micchia quanto è in alto Fighissimo Madò C'è un binocchio Cos'è? Allora raga no Spero di no Spero di no C'è una scrivania Fermi Schiaccio il tasto Vai C'è un aereo C'è un aereo Thomas ci sei tu Anni 4 Kevin e Sally E c'è un bussante qua raga Presto tu confirme Presto Presto C'è Emergy C'è uno shutdown Ma stai per far Stai per far cadere un aereo Mi sa Ma non penso proprio Premi Premi Vai vai Premi Premiamolo tutti Vai premete tutti Vai premi Ok Ma che c***o C'è una cinematic Sì Vedete anche voi quello che vedo io Sì la vedete questa volta No Target acquire E se fosse tipo il loop infinito E tu Che io butto giù aereo E tu ti risulta un altro Si incazza perché gli rubi il figlio E continua all'infinito sta cosa Ma spero di no dai Che c***o Che diamine sta succedendo Boom Eh può essere Ma non è caduto niente No dai No dai Quando Flore parla troppo presto Oh mio dio What the f***o What the f***o Abbiamo fatto un libro Abbiamo fatto un libro È uno youtuber Eric Leblanc Ah ci ha portato un tronco Per fare la dimostrazione Di come si taglia la legna Della serie Tu che sei indigeno Facci vedere come si taglia Ma invece sta tagliando Ok Ecco adesso l'ammazza Il sintomicida Ma che What No No Succede quel No Ma gli spunta Il boss Al figlio Oddio no Cosa è successo Jumpscarper a 3 Jumpscarper a 2 Si ma lo poteva 1 1 Ah no Si No No Ah What Nessun jumpscar Nessun jumpscar Quindi cos'è successo Cioè tu sei vivo Ado figlio a problemi No qualcuno ce lo deve spiegare No ragazzi dovete commentarmi Mille Che cosa è successo Ah no L'è finito L'è finito L'è finito Fatta la doccia Guarda Basta lo sguardo No 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 tranquillo Ah ci vediamo come siamo noi Vediamo Cioè in realtà io ero tipo un messicano Ma che c***o Ma questo è il figlio Ah sto cercando di ritrovare l'isola Sto male Ancora gli spasmi No What Non è proprio al posto sto ragazzo E' spiderman Venom 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 Ah basta Ah Quindi Non ho capito Ok Va bene Vabbè E' stato E' stato figo Cioè un po' strano Ragazzi Vi ringrazio Per avermi accompagnato In questo finale Di un gioco Che ho portato da una vita Non ho mai finito Grazie mille Grazie a te Siete proprio belli E niente Ragazzi voi nei commenti Mi dovete spiegare le cose Perché io non ho capito Ma penso nessuno di noi Però se mi spiegate Sarebbe meglio Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Come se vi sia piaciuto Se non mi piace Anche a vari social C'è un video in descrizione Passate anche dai canali Dei ragazzi Che trovate sempre in descrizione E noi come al solito Ci vediamo Alla prossima video Bene ragazzi